Ciao a tutti! In questo video prepareremo l'insalata di riso con il riso venere. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 35 minuti. Gli ingredienti sono zucchine, carote, piselli, uova, mais, pomodorini, olive, acido balsamico, sale, riso venere, olio e acqua. Diamo il via alla ricetta. Inseriamo nel boccale l'acqua. Mettiamo il cestello e il riso venere. Il sale. E mescoliamo il tutto. Fidiamo con il coperchio. Posizioniamo il vassoio. Le uova. All'interno del vassoio. E con il coperchio. E andiamo a cucinare il tutto. 35 minuti. Temperatura varoma. Velocità 2. Nel frattempo tagliare i pomodorini e le olive e mettere il tutto in una ciotola insieme al mais. Le verdure sono perfettamente cotte. Le andiamo a mettere all'interno della ciotola. Anche le uova sono da sode. E il riso è pronto. Per estrarre il cestello dal boccale, utilizzare la scalatura della spadola. Spadola mettendola all'interno. Ecco qua. Adesso andiamo a plettare. Insalata di riso venere bimbi. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. Grazie per la visione!